Siamo a Piazza delle Erbe a Verona, forse la piazza più turistica della città, infatti non a caso, è pieno di box dove vendono bancarelle, dove vendono di tutto, è una piazza decisamente vivace, cosmopolita, perché ci si trova un po' tutto il mondo qua, gente che viene un po' da tutto il mondo, l'influenza veneziana di questa piazza se la si può vedere chiaramente su questa colonna di tipo, in stile San Marco o Venezia. Tipico leone avate in cima. Ciao.